I cereali sono piante erbacee coltivate per i loro frutti destinati all'alimentazione. Il frumento, o grano, è il più importante e il più diffuso tra tutti i cereali. La pianta si adatta a diversi tipi di terreno e a diverse condizioni climatiche. Le specie più comuni sono il grano tenero, da cui si ricavano le farine adatte a fare il pane e altri prodotti da forno, e il grano duro, da cui si ricava la semola adatta per la preparazione della pasta. Il riso nasce e cresce nell'acqua ed è il cereale più consumato nel mondo, costituisce l'alimento base di circa un terzo della popolazione terrestre. È la pianta tipica dei climi asiatici ma si coltiva anche in Italia, in particolare nella pianura padana. Il mais, o gran turco, è una pianta originaria dell'America. Ha bisogno di un clima caldo e umido durante il periodo della maturazione per permettere ai frutti le pannocchie di svilupparsi. Oltre al frumento, riso e mais vi sono i cereali detti minori. Questi cereali, utilizzati prevalentemente come foraggio, fino a qualche anno fa avevano una scarsa importanza per l'alimentazione umana, ma oggi sono sempre più spesso impiegati nell'industria alimentare. La produzione orticola si suddivide in leguminose da granella come fagioli, piselli e ceci, piante da tubero come patate e rape, coltivazioni ortive diverse come pomodori, carciofi, peperoni, melanzane. I terreni coltivati a orto devono essere leggeri, fertili e profondi con possibilità di irrigazione. Per avere raccolti precoci o fuori stagione si utilizzano le serre. La semina può essere fatta direttamente nel terreno o nei semenzai. Gli alberi da frutto si trovano in ogni clima su diversi tipi di terreno. Durante i primi anni le piante hanno bisogno di un sostegno e di frequenti innaffiature durante l'estate. La potatura, cioè il taglio di alcuni rami, è un'operazione indispensabile per avere buoni frutti. Serve per dare all'albero giovane la forma più opportuna. È utile anche alle piante già formate per concentrare lo sviluppo su un minore numero di rami. L'industria della frutta in Italia è molto fiorente, soprattutto in alcune regioni dove si coltivano mele, pere, pesche e agrumi. Tra gli alberi da frutto più diffusi vi sono la vite e l'ulivo. La vite è un arbusto i cui rami tendono ad arrampicarsi. Il frutto è il grappolo, formato da tanti acini. Poiché la maggioranza delle coltivazioni si trova in zone collinari, il lavoro viene condotto ancora quasi tutto a mano. L'ulivo è una pianta tipica dei paesi mediterranei perché richiede un clima mite tutto l'anno. Quando il frutto è maturo presenta un colore verde, intenso, rossiccio o nero-violaceo. La raccolta dei frutti può essere fatta a mano sulla pianta o facendo cadere le olive su teli posti sotto l'albero. La floricoltura ha lo scopo di produrre fiori, piante fiorite in vaso, semi, bulbi per il giardinaggio o per il commercio. È un'attività agricola molto specializzata che richiede particolari condizioni di clima e molte cure. Nel nostro paese è nata in Liguria, dove ha trovato l'ambiente ideale. Il terreno deve essere preparato apposta impiegando materiali composti di sostanze speciali che prendono il nome di terricci. Anche la concimazione è fatta con prodotti organici o chimici e le annaffiature devono essere condotte con molta cura. Grazie. 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 Grazie.